L'Associazione Culturale per le Arti Contemporane e Sincrisis di Empoli promuove e organizza corsi di alta formazione per curatori di eventi, operatori ed esperti di produzione video, fotografia, allestimenti, grafica, editoria e ambienti digitali, in base alle richieste del sistema artistico-culturale di carattere istituzionale a livello pubblico e privato. La nostra proposta didattica è articolata in moduli caratterizzati da lezioni teoriche e laboratori specifici, secondo il corso scelto, lecture, work in progress, workshop, condotti da docenti specializzati, stagi in azienda, interventi di artisti, progettisti, per proporre attività in presenza e online con opportuni approfondimenti su esperienze di settore, preampliare conoscenze, acquisire abilità tramite la sperimentazione diretta, come un laboratorio attivo basato sul confronto, la collaborazione, la cooperazione e la riflessione critica, l'autovalutazione che assumono il rilievo come step di un processo di insegnamento apprendimento, basato sul learning by doing e mirato, attraverso un'attenta programmazione, alla costruzione di un percorso rispondente a esigenze e bisogni dell'utenza per la certificazione di competenze di elevato livello professionale. Simpresis si avvale della preziosa collaborazione del laboratorio immagini e comunicazione digitale presso par group, gruppo SESA di Empoli, guidato dal docente ordinario Vito Cappellini dell'Università degli Studi di Firenze ed è in partnership con Star Project di Prato. Visita il nostro blog o il nostro website per informazioni più precise. Ti invitiamo alla giornata di presentazione dei corsi presso la nostra associazione in via della Repubblica 5254 a Empoli. Grazie. 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 Grazie a tutti.